Abbiamo parlato la volta scorsa della censura, dei libri proibiti, ma è soltanto con l'illuminismo paradossalmente che compare l'idea che in fondo tutti i libri potrebbero essere distrutti. Chi è il primo propugnatore di questa idea un po' bizzarra? È Jean-Jacques Rousseau, il famoso filosofo ginevrino che aveva collaborato alla Encyclopédie, quindi a questo testo così importante, così decisivo nella storia francese del Settecento, a un certo punto e crea, diciamo così, il mito del buon selvaggio, cioè di questo personaggio ideale che vive nelle capanne, con abiti molto poveri, si orna di piume, vive libero, sano, buono e felice, dice Rousseau. E cosa fa questa persona? Beh, Rousseau scrive anche un discorso sulle scienze e sulle arti del 1750 che gli dà una grande fama nei salotti letterari e nobiliari dell'epoca, tanto che avrà oltre 300 repliche a stampa. E cosa dice in questo libello? Dice che alla fine l'invenzione della stampa stessa è da condannare. In fondo la cultura è artificio, la cultura ci allontana dalla natura, la cultura trasforma l'uomo ma quasi sempre in negativo, se non sempre. E quindi molto meglio un mondo senza cultura, senza scienze, senza arti. In particolare questa posizione verrà sposata ancora più radicalmente dai cosiddetti russoiani come Dom Deschamps e Morelli. Questoro vogliono una, ipotizzano una cultura trasmessa soltanto oralmente, senza bisogno di libri, senza bisogno di scrittura e affermano chiaramente che il futuro dovrà fare a meno dei libri. Sarebbe bene bruciarli tutti, anche nell'educazione dei ragazzi basta la parola, bisogna farli crescere spontaneamente al contatto con le piante, con gli animali, con la vita di tutti i giorni senza assolutamente nulla di artificioso. Ecco vedete nel settecento dell'illuminismo c'è anche la presenza di questa condanna radicale del libro e della cultura. È una condanna che così non trova poi grande applicazione pratica ma che ritornerà poi nel novecento per esempio nella utopia comunista ecologista di Pol Pot. Siamo in Cambogia, siamo quindi negli anni settanta e i Khmer Rossi, cioè i comunisti cambogiani guidati da Pol Pot, decidono proprio di lanciare una crociata senza precedenti contro i libri, contro la scrittura, contro la carta. Pierluigi Battista, noto giornalista del Corriere della Sera, scrive una vera fissazione, bandite le banconote, soppressi i documenti di identità, vietato possedere le fotografie, distruzione di tutti i volumi della Biblioteca Nazionale, i documenti del passato, i documenti storici, gli scritti del buddismo. Pol Pot invitava i giovani a distruggere tutto quello che era il passato per poter così permettere la nascita del futuro, la nascita di un mondo diverso che aveva radicalmente tagliato con la cultura del passato. Sappiamo che sarà una strage, sappiamo che sarà il comunismo di Pol Pot, sarà uno dei più crudeli esperimenti, forse il più crudele della storia dell'umanità. Ecco che se appunto ci concentriamo anche in questo caso sul Novecento, oltre che nella Cambogia comunista degli anni settanta, dobbiamo ricordare i celebri roghi di libri della Germania nazista che iniziano nel 1933, siamo di fronte circa a un centinaio di roghi ben organizzati, ben costruiti anche come scenografia, in cui vengono bruciati vari libri che vengono considerati così in senso lato e antinazisti. Se poi ci spostiamo leggermente in Unione Sovietica, anche qui abbiamo una censura radicale. I comunisti vanno al potere celebrando la libertà di stampa, la libertà di parola, contro la censura dello zar, ma in breve introdurranno una censura mille e mille volte più rigorosa. Abbiamo delle vere e proprie liste, come i piani quinquennali delle liste ogni anno di tutti i libri da distruggere e arriviamo soltanto nel 35, nella sola Leningrado, a roghi che contengono circa 20.000 libri, cioè più dei libri che gli zar avevano bruciato in centinaia di anni. Una cosa abbastanza paradossale ma molto interessante, in fondo anche qua, come per Pol Pot che abbiamo visto prima e per Rousseau, c'è quest'idea, cancellare il passato per permettere un futuro migliore, un futuro in cui tutto il male che c'era nel passato e quindi anche le idee cattive vengano assolutamente eliminate. L'ultimo esempio che possiamo fare di questo secolo, il Novecento, che è stato il secolo delle idee assassine, delle guerre mondiali, dei lagheri di Gulag, ma è stato anche il secolo più duro verso la cultura e verso i libri, è la Cina di Mao Zedong. Nella Cina di Mao Zedong, in particolare di sua moglie a cui viene affidato il Ministero della Cultura, i libri vengono accusati di essere feudali, revisionisti, capitalisti, scorreggie di cane e devono essere radicalmente devastati. Libri cristiani perché vengono dall'Occidente, libri confuciani perché sono di un passato di cui bisogna vergognarsi, in un modo o nell'altro c'è una radicale cancellazione del patrimonio storico. Addirittura i giovani vengono invitati non soltanto a bruciare questi libri, ma a entrare nelle case, a distruggere le librerie private, ad abbattere le statue di Confucio, ad abbattere le vecchie iscrizioni, le vecchie lapidi. C'è una vera e propria follia collettiva che ricorda mutatis mutandis, quello che avviene oggi ogni tanto negli Stati Uniti, quella cosiddetta cancel culture, cioè questa cultura della cancellazione dove alla fine ci si limita a distruggere qualcosa del passato senza che questo poi possa significare granché per il presente. Ma Mao Zedong non si limita a pianificare una distruzione, a dare ai suoi giovani questo compito distruggete per essere edificatori del futuro, no, vuole anche sostituire tutto lo scivile con un suo libro, il famoso libretto rosso di Mao, quelli che tutti devono ottenere, che devono agitare nelle manifestazioni pubbliche, che devono curare come la pupilla del loro occhio. Questi libretti venivano donati ai giovani e Mao dice che sostanzialmente in questo libretto, che avrà centinaia e centinaia di edizioni, che sarà tradotto in tantissime lingue, in questo libretto c'è tutto quello che serve a un uomo da sapere, quel libretto basta, tutto il resto non serve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.